Siamo? O giri tu o mi giro? Giri tu la giro io? La mi giro io così. Perché? No, dimmi te. Signore, abbiamo una qua, regista che non è tanto io che non so le barzellette, che regista che non lo so mai vedere. Questa zebra scappa dallo zoo, scappa dallo zoo questa zebra e va in un posto dove non l'ha mai visto, una specie di fattoria, scappa l'altro. A un certo punto vede un animale strano e dice scusa che animale sei tu? No, gli dice questo padre. Che animale sei tu? E io sono la zebra, ero nello zoo e io sono le galline. Ah ma cosa fai gallina? C'è che fai io? Intanto fai un'evolta, anzi dos'volta sin di, l'uff, l'uovo e a parte il dolore, l'uovo dà tante robe perché fanno pasticceria, fanno da mangiare con la farina, fanno tantissima roba. Ah e la zebra prende e va via, vai in un altro posto e vede un animale ancora più grande. Scusa ma tu che animale sei? Io sono la mucca. Ah ma cosa fai mucca? C'è che fai io, se ne ne fai il latte, latte vita, latte con latte si fa tutto, vive la gente con latte, non è che si scherzi. Ah la zebra si sposta, vai in un posto un po' più, vede un animale ancora più grande. Scusa ma tu che animale sei? Io sono il toro da monta. Ah ma cosa fai tu toro da monta? Se tu ti riviaca il pigiama lì ti fa svelo di oggi che ti fa la sveglia.